La Fondazione Cari Spacca torna proprietaria del Palazzo Storico della Cassa di Risparmio in centro, oggi sede di B per banca, oggi in fondazione la firma dell'atto con il quale la Fondazione acquisisce il Palazzo Storico della Direzione Generale della Cassa di Risparmio, un'operazione rilevante che consende alla Fondazione di diversificare il proprio patrimonio con un investimento a reddito nel settore immobiliare. La cosa è importante, importantissima soprattutto per la città dell'Aquila, perché ridiamo alla città dell'Aquila il palazzo che fu costruito per rendere bella la città, poi venne dato alla Cassa di Risparmio di allora e oggi torna in proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio e quindi la possibilità di poter dire che abbiamo compiuto un percorso. L'immobile in pieno centro è uno dei più prestigiosi palazzi storici, con una superficie di 7.000 metri quadri e 6 livelli. Manterrà la sua storica destinazione con la presenza della filiale e gli uffici di Biper, ma anche dei negozi a piano terra, mentre il terzo e il quarto piano da gennaio saranno usati anche dall'USDRA, ufficio di costruzione del comune, nel discorso di rivitalizzazione del centro. La Biper, molto felice di questa acquisizione, ha annunciato anche la decisione di far diventare il Palazzo Farinosi-Branconi uno dei poli museali di Biper Banca. Rimaniamo nel Palazzo, siamo contenti di ridarlo oggi alla città dell'Aquila, alla Fondazione. È stato un percorso lungo, l'abbiamo ristrutturato, è un gioiello. Ridiamo un pezzo della città alla città, ridiamo un pezzo della cultura. Siamo molto molto contenti. Rimaniamo chiaramente dentro l'immobile, lo lasciamo in parte così anche altri uffici dell'Aquila potranno utilizzarlo. Come gruppo oggi vuol dire fare questo, banca. Oggi vuol dire anche ridare alle comunità le radici che hanno costruito una banca nazionale come Biper è diventata oggi. Quindi siamo particolarmente felici del percorso. Grazie. 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 Grazie.